Noi abbiamo presentato degli emendamenti chiedendo che si fosse più chiari, per esempio, chiedendo che si potesse citare il diritto di Israele a esistere e non furono approvati, per calcolo politico, poi per questo noi ci astenemmo sulla Commissione e fumo noi, diciamo, tacciati di antisemitismo. Però poi i nodi vengono al pettine, quindi forse una valutazione, una riflessione seria su il fatto che delle volte si è messa un po' la testa sotto la sabbia vale la pena di farlo. Dopodiché quello che noi abbiamo fatto in questo momento, intanto come sa, anzi le do una notizia perché lei sa che il prefetto Pecoraro si è dimesso per ragioni personali dal suo incarico che riguarda questa materia e noi siamo in procinto di nominare il generale Angelo Santo, che è già stato capo del ROS, una persona generale molto autorevole, a occuparsi di questa materia. Sul piano della sicurezza, come lei sa, abbiamo lavorato da subito con il Ministro Piantedosi, che ringrazio per questo lavoro, soprattutto per mettere in sicurezza le nostre luoghi sensibili, le nostre comunità ebraiche in Italia, ma dopodiché io penso che bisogna lavorare sul piano culturale. E forse la cosa più intelligente che possiamo fare, soprattutto verso le giovani generazioni, è far conoscere cosa sia Israele. Quando ero Ministro della Gioventù, noi abbiamo attivato il servizio civile in Israele e secondo me è una di quelle iniziative che possono aiutare a conoscere meglio una realtà che secondo me molto spesso è vittima di stereotipi. C'è un racconto che io vedo molto diverso dalla realtà che conosco e forse aiutare più giovani a conoscere quella realtà può aiutare a combattere anche culturalmente, che poi è il tema principale, il fenomeno tragico dell'antisemitismo. Grazie. Vincenzo Miglieta, Radio Coro, il Sole 24 Ore. Presidente, buongiorno, buon anno. Torno ai temi economici. Lei, ad inizio della conferenza stampa di oggi, ha detto che sul fronte delle risorse il Governo ha fatto e farà salti mortali nel trovare le risorse. Allora, introduco il tema delle privatizzazioni. Nei documenti programmatici di bilancio leggiamo che si prevedono incassi di 20 miliardi nel triennio. Lo stesso Ministro dell'Economia, Giorgetti, in un'intervista al Sole 24 Ore recente, ha parlato di un punto percentuale di PIL proprio nel triennio. Giorgetti stesso, in tema di privatizzazioni, non ha escluso quotazioni sul mercato di ferrovie, di railway, anche di un'ulteriore tranche di poste. E poi, come lei sa bene, c'è da finire il dossier di Monte dei Paschi di Siena, iniziato a fine novembre. Allora, la mia domanda è questa, molto rapida. Se nel 2024 ci dobbiamo attendere novità per queste aziende che ho citato. E se sì, se prevedete di fare delle operazioni a vantaggio dei piccoli risparmiatori che comunque in passato hanno mostrato di apprezzare decisamente il collocamento di azioni di società pubbliche. O se invece vi rivolgerete, come è stato fatto recentemente per MPS, agli investitori istituzionali. Grazie. Grazie a lei. Dunque, intanto, come lei ha ricordato, nella Nadef noi abbiamo stabilito l'obiettivo di 20 miliardi di privatizzazioni nel triennio 24-26. Vuol dire, in buona sostanza, un punto di PIL in tre anni. Voglio però anche dirle che l'impostazione mia e di questo governo in tema di privatizzazioni è lontana anni luce da quello che delle volte abbiamo visto accadere in passato, dove per privatizzazioni si intendevano regali miliardari a fortunati imprenditori ben inseriti. Non è questa la mia idea di cosa si intenda per privatizzazione. La mia idea di cosa si intende per privatizzazione è ridurre la presenza dello Stato dove la presenza dello Stato non è necessaria e, diciamo, riaffermare la presenza dello Stato dove invece la presenza dello Stato è necessaria. E questo chiaramente riguarda sicuramente il tema della riduzione delle quote di partecipazione statale che non riduce controllo pubblico e questo potrebbe ad esempio essere il caso di Poste, così come io penso che ci sia la possibilità di far entrare i privati in quote minoritarie di società che oggi sono interamente sotto controllo pubblico e questo è il caso di Ferrovie. Ma sulla tempistica, soprattutto sulla vicenda di Ferrovie, lei sa che questo richiede una serie di passaggi che non stiamo a spiegare ma insomma che sono abbastanza lunghi e quindi la tempistica non dipende ovviamente solamente da me. Penso intanto che abbiamo dato un bel segnale con Monte dei Paschi di Siena perché noi per anni insomma abbiamo parlato di Monte dei Paschi di Siena come lo Stato italiano che metteva i soldi in Monte dei Paschi di Siena e bene o male con la nostra iniziativa alcune di queste risorse sono rientrate, lo considero diciamo un bel segnale. Ma ripeto, a partire dal nostro programma l'idea con la quale ci muoviamo è questa, cioè dove la presenza dello Stato non è necessaria si può indietreggiare, dove la presenza dello Stato è necessaria lo Stato deve riaffermare la sua presenza e deve controllare quello che è strategico ma questo non vuol dire non aprirsi anche al mercato. Grazie, Giuseppe Marco Trombetta, giornale radio. Buongiorno e buon anno Primo Ministro. La chiamo così perché parlerò di riforme istituzionali e costituzionali. Il premierato, parte di commentatori e le opposizioni temono lo sbilanciamento dei poteri tra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica. In particolare su quest'ultima figura, le chiedo la opposizione. E poi è collegato, l'autonomia differenziata sembra viaggiare su un binario parallelo, la riduzione del divario tra Nord e Sud sarà garantita? Grazie. Aspetti che me le sto scrivendo. Allora, sul tema della riforma costituzionale, guardi ho già risposto varie volte a questa domanda. Quando io ho presentato la riforma costituzionale del premierato, la prima cosa che ho detto è che noi avevamo scelto di non toccare i poteri del Presidente della Repubblica e non li tocchiamo. Cioè, noi manteniamo intatto il ruolo del Presidente della Repubblica perché è giusto così, penso io, e perché sappiamo che il Presidente della Repubblica in Italia è sempre stata una figura di assoluta garanzia e c'è a maggior ragione bisogno di quella figura di assoluta garanzia quando domani ci dovesse essere un governo che ha un primo ministro eletto direttamente. Io non vedo in cosa l'elezione diretta del capo del governo significhi togliere potere al capo dello Stato, soprattutto se noi abbiamo scientificamente scelto di non toccare i poteri del capo dello Stato. Si crea, secondo me, un equilibrio che è assolutamente, diciamo, che è un buon equilibrio, si rafforza la stabilità dei governi. E non vedo anche qui come questo potrebbe ledere le prerogative del capo dello Stato perché oggettivamente in Italia abbiamo avuto un problema di stabilità dei governi. Abbiamo anche avuto un problema di governi che non rispondevano a nessuno. cioè che venivano smontati e rimontati all'interno del palazzo senza mai chiedere agli italiani che cosa ne pensassero, che non vuol dire semplicemente la persona, vuol dire il programma. Cioè in tutta la scorsa legislatura sono stati realizzati programmi che non erano stati votati da nessuno. Mi si può dire, diciamo, in che cosa si sostanzia la democrazia rappresentativa? La democrazia rappresentativa si sostanzia nel voto per te perché tu possa fare questo in mia vece. Ma se manca questo passaggio temo che ci sia un problema che noi abbiamo visto molte volte. Quindi che cosa stiamo cercando di fare noi? Stiamo cercando di fare una riforma che mantenendo gli equilibri, mantenendo le garanzie, mantenendo il ruolo del capo dello Stato consenta ai governi domani, intanto di avere, diciamo, ragionevolmente la possibilità di durare cinque anni. Perché noi abbiamo pagato la nostra instabilità pesantemente. L'abbiamo pagata in tema di credibilità internazionale, l'abbiamo pagata in tema di, diciamo, visione e strategia. Perché non ereditiamo il più pesante, diciamo, il pesantissimo debito pubblico che abbiamo per qualche ragione. Lo ereditiamo perché chiaramente quando ci sono dei governi che hanno un orizzonte breve, quei governi tenderanno, per esempio, a privilegiare la spesa pubblica rispetto agli investimenti. Perché? Perché i risultati degli investimenti si vedono più tardi di quelli che offre la spesa pubblica. Ma ha significato anche la debolezza della politica rispetto a una serie di altri, no? C'è, per esempio, sul tema economico, la incapacità di dare risposte sulla questione degli investimenti, di fare riforme di lungo respiro. Cioè, noi lo abbiamo pagato. Ora, io potrei non pormi il problema perché, diciamo, ragionevolmente potrei essere...